ben trovati spettatori e spettatrici di senza confini il mondo cambia cambia il mondo ben ritrovato padre francesco nella puntata precedente abbiamo recuperato il cammino fatto nelle stagioni scorse quindi i dieci comandamenti e poi l'introduzione ai sette segni con il primo e il secondo oggi cominciamo a leggere il terzo segno e leggiamo i nove versetti del capitolo 5 del vangelo di giovanni dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e gesù salì a gerusalemme ora a gerusalemme presso la porta delle pecore c'è una vasca chiamata in ebraico betesda che ha cinque portici sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi di ciechi di zoppi e di paralitici i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua perché un angelo in determinati momenti scendeva nella vasca e agitava l'acqua e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito là c'era un uomo che da 38 anni era infermo gesù vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così gli disse vuoi essere guarito l'infermo gli rispose signore io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io un altro vi scenda prima di me gesù gli disse alzati prendi il tuo lettuccio e cammina in quell'istante quell'uomo fu risanato e preso il suo lettuccio si mise a camminare allora padre francesco intanto qual è il contesto dovremmo essere nel cosiddetto shabbat allora sì siamo collochiamolo questo questo brano perché in realtà intanto parliamo di segni non abbiamo ricordato l'olta scorsa la normalmente diremmo dei miracoli no i miracoli che gesù compie in realtà l'abbiamo specificato nelle catechesi precedenti il il miracolo semplicemente la raccontare un miracolo significa far memoria di un qualcosa che è avvenuto di un qualcosa di straordinario punto che è chiuso lì cioè è avvenuta quella cosa gesù ha compiuto quella cosa per una persona per una serie di persone ha fatto quello e stop in realtà questo è la giovanni pone diciamo nella sua nel suo percorso di di sviluppo del del vangelo sceglie dei miracoli sceglie degli eventi straordinari che gesù ha compiuto eh perché attraverso questi miracoli eh possa eh risultarne fuori eh qualche cosa della eh di che cosa significhi di che cosa voglia dire la persona e l'azione di Gesù cioè eh questi miracoli di fatto sono segno ecco perché vengono chiamati segni sono segni eh che individuano indicano eh chi è eh Gesù e che cosa viene ad apportare per la nostra vita quindi quei segni quei miracoli diventano segno non solo della realtà di Gesù ma diventano segno per la nostra vita hanno a che fare hanno a che vedere con la nostra realtà eh oggi e di ogni tempo quindi hanno un valore per la nostra vita è quello che dicevamo la volta scorsa cioè eh perché noi stiamo stiamo facendo queste catechesi in realtà perché Don Fabio se le se le immaginate quindi le ha strutturate le ha strutturate perché queste catechesi eh possano potessero in un qualche modo eh dare una svolta alla vita di tante persone cioè questo questo è il senso quindi segni fatti che ai protagonisti no delle varie vicende conducono alla salvezza ma che possono portare eh anche noi a quella meta sì conducono conducono alla salvezza e quando noi pensiamo alla salvezza la salvezza non è semplicemente un qualche cosa da realizzare no cioè la salvezza è eh il farmi vivere bene anche la vita mia cioè la vita di oggi perché anche qua noi pensiamo sempre a quello che deve avvenire cioè la salvezza è giungere al paradiso comunione finale per i buon parapan e mo' oggi e mo' oggi cioè la salvezza è eh l'aiutarmi a vivere meglio la vita di tutti i giorni l'aiutarmi a vivere dando valore dando senso dando significato alla vita di tutti i giorni vediamo quello che succede poi eh tante persone che vivono insoddisfatte tutto il resto vanno cercando poi c'è un decadimento c'è una c'è una un allontanamento dai valori cristiani si parla di un allontanamento progressivo eh dei fedeli dalle nostre chiese eccetera eccetera eh e quindi qualcuno ne parla con soddisfazione di questa cosa come se fosse una conquista dopodiché però devi fare lo sforzo di eh di riempire i vuoti che quella che quell'allontanamento ti ti porta con un altro e assistiamo a cose dell'altro mondo per esempio che ne so mi ricordo quell'episodio di di quel tizio che ha ammazzato una donna a mani nude perché voleva provare l'ebbrezza del eh che significa eh poter togliere la vita a una persona a farla a mani nude cioè arriviamo a queste cose per quale motivo? perché tu devi dare senso significato alla tua vita quindi tu ti puoi allontanare da quella cosa ma non è che allontanando cioè uccidendo Dio ritorniamo alla 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 cosa di Nietzsche no? uccidendo Dio eh poi dopo tu hai risolto i tuoi problemi magari no? secondo me te la sei complicata la vita però poi ognuno la può vedere a modo suo allora questi segni di fatto eh questi eh questi miracoli eh che Gesù compie che Giovanni sceglie tra l'altro di sette segni che Giovanni sceglie sei sono i suoi cioè eh gli altri Vangeli Vangeli Sinotti in modo particolare quindi gli altri tre evangelisti Matteo, Marco e Luca riportano una marea di di miracoli che Gesù compie eh e quindi Giovanni aveva l'imbarazzo della scelta e invece Giovanni che scrive per ultimo di questi miracoli che lo racconta sei eh sono suoi non 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 le riportano gli altri l'unico che è in comune con gli altri è il segno del pane eh lui sceglie appunto questi segni perché questi segni hanno possono avere un valore un significato per le persone di ogni epoca e ci raccontano chi è e che cos'è eh chi è Gesù e che cosa ha fatto eh perché quel che cosa ha fatto ha un senso un valore ha un significato può cambiare la vita di ciascuno di noi prima di raccontare il contesto del terzo segno e quindi di continuare il discorso che stiamo facendo a proposito di messaggio di vita e salvezza voglio citare un eh un personaggio che è diventato noto e purtroppo eh morto qualche tempo fa a semi basso il ventottenne eh che era affetto da una grave patologia di eh la cosiddetta eh progeria se non sbaglio l'invecchiamento precoce ora eh lui era eh portatore di un bel messaggio diceva se alcuni grandi della terra e chi fa la guerra eh conoscesse il significato della lotta per la vita non la fare non farebbe un conflitto no e quindi un potente messaggio di vita di salvezza sì e quello anche perché poi alla fine la vita è breve cioè per lui per lui è stata ancora più breve perché ha vissuto una vita accelerata eh quindi un invecchiamento precoce quindi un eh un acceleramento un'accelerazione della 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 velocità con cui ti avvicini alla fine eh ma eh e quindi immaginate che cosa può significare cioè c'è il Salmo che dice la nostra vita gli anni della nostra vita sono 70 80 per i più robusti può arrivare a 100 perché ora c'è allungata la vita però diciamo puoi diluire di qualcosa non è che poi cioè che cos'è questo di fronte all'eternità di fronte all'ereo geologico non è nulla siamo siamo un soffio no la nostra vita è come l'erba al mattino sempre salmo al mattino è germoglia e alla sera è falciata di secca cioè dura una giornata quindi di fronte all'eternità la nostra realtà e la nostra vita terrena è un soffio no è un mozzico si dice la Roma e quindi noi dovremmo saper gustare valorizzare ogni momento che il Signore ci regala anche perché nessuno di noi ha fatto il contratto non lo sappiamo quanto può durare questa vita e se tu la devi valorizzare non puoi perdere tempo non solo a fare guerre ma a stare lì ad arrabbiarti con tutto con tutti a creare conflitti quanto tempo sprechiamo da questo punto di vista eppure il suo quello di Semi Basso era un è anzi un messaggio una testimonianza cristiana evidentemente una persona gioiosa una testimonianza umana perché poi noi parliamo di cristiana come se fosse una cosa particolare in realtà la cristianità o la logica cristiana si fonda sulla su una base profondamente e propriamente umana perché anche qui c'è la guerra il laicismo la laicità di che parliamo? quindi dicevo una testimonianza cristiana o umana come giustamente precisi di gioia di felicità nonostante tante difficoltà è una vita spesa a servizio dell'altro a servizio della ricerca nel suo caso no? sì 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 per ritornare al discorso che stavamo facendo e quindi al terzo segno il contesto abbiamo detto siamo nello Shabbat no no aspetta aspetta non ci siamo arrivati in realtà perché tu sei partito da quello stavo contestualizzando in un contesto più generale più ampio allora noi abbiamo trattato i primi due segni i primi due segni si trovano una collocazione geografica particolare siamo in Galilea Cana in modo particolare no? in mezzo c'è il fatto che Gesù se ne va a Gerusalemme c'è la purificazione del Tempio ma tutte e due segni avvengono in un contesto particolare siamo nel nord di Israele siamo in una zona di confine siamo in una zona in cui c'è un miscuglio tra pagani e ebrei dell'epoca una zona che oggi è anche sotto le bombe quindi insomma siamo in una zona che era particolare e continua a esserlo ancora oggi ai nostri tempi invece il terzo segno si colloca a Gerusalemme si colloca in Giudea cioè si colloca a Sud si colloca in quella che è la città santa in quella che è la città per eccellenza la città di Davide insomma no si colloca nel fulcro nel cuore del 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 contesto ebraico che in quella che oggi è la città per eccellenza delle tre grandi religioni monoteiste ebraica cristiana e musulmana e diciamo si precisa che questo segno avviene all'interno di una festa che però non sappiamo qual è ecco perché si parla di una festa ma il contesto è quello di una festa nella festa perché non non solo stiamo in un contesto di festa ma siamo in un contesto di festa ordinaria che però per Israele ha un significato particolare che è quello dello Shabbat quello che dicevi tu cioè il sabato è il giorno del riposo lo Shabbat che fa riferimento al al settimo giorno quello della in cui Dio si riposa che è il giorno culmine della creazione qui c'è sempre questa storia di dire in quanti giorni Dio ha creato il mondo in sei giorni più uno c'è sempre sto più uno perché i sei giorni sono di lavoro il settimo giorno il giorno di riposo per cui sai in realtà questo giorno è come se non ci fosse nel senso che se uno si è riposato non sta lavorando quindi non può essere un giorno di lavoro importante sì è importante perché per noi i giorni importanti sono quelli di lavoro dove uno fa qualche cosa in realtà quel giorno è il giorno più importante ed è il giorno che culmina la realtà della creazione per cui la realtà della creazione il culmine perché noi siamo quelli che ci sentiamo sempre importanti l'abbiamo detto anche in altri contesti poi dipende anche dai commenti i commentatori ma noi siamo quelli che tendiamo a sentirci i meglio di tutti come si dice a Roma no cioè siamo i migliori per cui usciamo fuori al culmine della creazione l'ultimo lavoro che Dio fa al sesto giorno è la creazione del uomo della donna il giorno più bello infatti l'autore biblico sottolinea che mentre negli altri giorni Dio ci compiace in qualche modo del lavoro che fa perché Dio vide che era cosa buona quello che lui ha fatto e arriva il sesto giorno e Dio vide che era cosa molto buona quindi insomma la creazione della donna è proprio l'apoteosi non male che poi si è fermato l'apoteosi in realtà il racconto al di là di questo che rimane vero sto scherzando perché poi al di là di questo il racconto della creazione mira proprio al settimo giorno tant'è che c'è un salmo che che poi è il salmo 94 che è uno dei salmi che la persona che prega prega con con i ritmi che scandisce la chiesa quello è il salmo che viene pregato più di tutte le altre preghiere perché è il salmo che viene recitato io a me non piace questa parola questa espressione attaccata alla preghiera lo dico costantemente uno dei guai secondo me delle nostre preghiere è che noi abbiamo appiccicato la preghiera alla parola recita per cui la preghiera è diventata una finzione perché la recita è tipicamente l'espressione tipica della finzione i bambini imparano a recitare le recite scolastiche le recite parrocchiali e quindi tu appiccichi la recita alla preghiera per cui anche la preghiera diventa una finzione come tutte le altre non è così dovremmo recuperare qualche altra parola perché altrimenti dici sì ma pregare con la preghiera diventa cacofonico sì allora inventiamoci un'altra parola perché quella recita non va bene ha recitato le preghierine e poi ci meravigliamo che capito la preghiera diventa qualcosa di inutile si svuota di significato si svuota di significato quindi il salmo recitato e quindi diventa il salmo comunque pregato più di tutti quanti è il salmo 94 per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi sono un po' con il corso di piatto eccetera eccetera e allora dissi non entreranno nel luogo del mio riposo non entreranno nel luogo del mio riposo questo benedetto non entreranno che sembra una una maledizione di fatto non entreranno nel luogo del mio riposo che significa non entreranno in paradiso tradotto banalmente in realtà dice qualcosa di molto di più perché non è soltanto la promessa di non andranno all'inverno non entreranno nel paradiso nel luogo della comunione perpetua in realtà è un qualcosa che anche qua parla nella concretezza della mia vita tante persone oggi corrono dalla mattina alla sera e non riescono a riposare cioè non riescono a trovare pace non riescono a trovare pace nella loro vita questo l'abbiamo detto nel terzo comandamento nel catechesi del terzo comandamento abbiamo detto in lungo e largo perché quel comandamento che noi decliniamo come ricordati santificare le feste in realtà è un comandamento che dice e ci ricorda che la finalità della creazione è proprio il riposo lo shabbat e quindi dovremmo dare valore al riposo anche nella nostra quotidianità in realtà noi non riusciamo a riposare l'abbiamo detto in tante modi non vedo loro che arriva domenica per noi perché lo shabbat dice Fausto fa la battuta non lo so ma poi può anche darsi che ci abbia ragione perché uno dei luoghi più importanti di Roma uno dei posti importanti storici stiamo anche nella zona centrale è il cosiddetto quartiere ebraico quindi poi in realtà certe espressioni certe cose può anche darsi che abbiano trovato posto all'interno della cultura locale perché c'è l'espressione ciabatte a Roma c'è la ciabatta che è la ciabatta dice io sono convinto che ciabatta che proprio ciabattaro quello che proprio sta là che non vuole fare niente dalla mattina alla sera è quello proprio l'inerte per eccellenza il ciabattaro la parola ciabatta viene da ciabatta dalla ciabatta fa la battuta anche nel testo nella catechesi può anche darsi torno a ripetere chi ci veda giusto nel senso che c'è attinenza tra lo ciabatta tra il riposo e la ciabatta che è simbolo che è simbolo del riposo ma in realtà al di là di questo quel ciabattaro di cui parla lui poi alla fine è quel ciabattaro che non riesce a trovare riposo perché è il ciabattaro che va cercando la domenica va cercando il giorno di riposo e poi nel giorno del riposo che fa puntualmente si riempie la giornata di altre cose quindi andiamo alla gita fuori porta poi soprattutto in certi periodi il weekend e tu mettiti in viaggio su certe mete sabato a domenica e vedi che ti succede te fai che ne so sei ore di macchina per raggiungere un posto che altrimenti sarebbe a un'ora di macchina quindi ti stressi arrivi là devi correre a destra manca perché te sei fatto sei ore di macchina compagnia bella poi devi tornare alla sera perché il giorno dopo devi andare al lavoro magari arrivi tardi il giorno dopo arrivi al lavoro il lunedì con due occhi confi così per cui alla fine tu hai aspettato il giorno di riposo che l'hai riempito di una serie di cose da fare in quel giorno ti sei stancato ancora di più e inizia la settimana aspettando quel giorno di riposo che non arriva cioè è un ringo e perché fai questo questo spiega anche la tendenza oggi a vivere di attese sì aspettiamo l'estate aspettiamo Natale aspettiamo Carnevale aspettiamo Pasqua la primavera la primavera è di nuovo l'estate che poi di fatto anche le pubblicità ci marciano su ste cose ti scandiscono il tempo perché andavano a ciappare i soldi e tu hai ho volutamente saltato evitato di citare altre feste che vengono celebrati altri momenti di festa che vengono celebrati proprio perché la pubblicità anche come dire fomenta quasi quella nostra tendenza a vivere di attese eh sì e quindi tu vai vai così non riesci non riesci perché il problema è che tu non puoi trovare pace non puoi trovare quel riposo non entreranno se non cominci a gustare la vita in maniera diversa cioè a vedere la vita con occhio diverso a sentire il profumo della quotidianità tu scappi dalla quotidianità tu cerchi di scappare ma dove scappi cioè poi puoi fuggire in luoghi di disparati c'è una una canzone di Taylor Swift poi la devo la devo tradurre probabilmente perché il senso è diverso ma si chiama Run Corri che mi pare nel ritmo dice scappiamo adesso manca tu puoi scappare dove ti pare ma non puoi scappare da te stesso non puoi fuggire da te stesso non puoi fuggire dalla tua situazione quotidiana perché se tu continui a fuggire tu non andrai da nessuna parte perché non ti puoi distaccare da te stesso altrimenti schizofrenico comincia a vedere qualcun altro comincia a sdoppiare dice ho uno sdoppiamento di comincia a vedere il mio corpo fuori da me stesso insomma in realtà dovremmo anche imparare a decentrarci perché siamo come dire egoriferiti egocentrici ma appunto poi non andiamo da nessuna parte allora e perché non riesci a farlo questo lavoro perché l'abbiamo detto più volte anche appunto in quella catechesi del terzo comandamento perché non riusciamo a fare pace con la nostra storia con il nostro mondo che ci ha preceduto perché nessuno si è fatto da solo fondamentalmente e non riusciamo a fare pace con la nostra quotidianità cioè col fatto che non ci riusciamo a far piacere la vita di tutti i giorni il nostro lavoro quindi ci riempiamo di e siamo sempre insoddisfatti aspettiamo il riposo che ci lascia più insoddisfatti del giorno di lavoro e perdiamo la nostra vita in questo ritmo che sembra svoltarla di significato credo che con queste parole abbiamo tracciato il contesto del terzo segno nella prossima puntata certamente andremo avanti capiremo come Gesù vive lo Shabbat e certamente continueremo nella lettura di questo fatto che Giovanni ci racconta grazie Padre Francesco grazie a voi per averci seguito buon proseguimento con i programmi della rete grazie a tutti